Leonardo Da Vinci, il primo scalo al mondo ad aver installato presso il proprio pronto soccorso i dispositivi di illuminazione battericidi biovite, ADR sempre più all'avanguardia per l'innovazione? Questa iniziativa mi ha molto interessato perché è un'iniziativa per la salute dei nostri passeggeri, noi poniamo sempre il passeggero al centro della nostra attenzione, pensiamo che l'aeroporto sia un luogo in cui l'uomo, la donna, il bambino, l'anziano debbano tutti trovarsi bene, qualsiasi sia la loro condizione fisica e anche psicologica perché pensiamo che se anche una persona non vuole partire, ma deve partire nel momento in cui viene all'aeroporto abbia un momento di conforto, un momento di stimolo per la partenza. Qui nel particolare questa iniziativa è scientificamente provato che i batteri sono stati ridotti, quindi sia nel pronto soccorso sia nell'area medica c'è stato un risultato forte di abbattimento e in un periodo in cui si parla molto di evitare l'uso di antibiotici perché poi diventano molto resistenti e le morti per resistenza dei batteri sono in aumento, penso che sia un buon risultato fare di queste sperimentazioni. Non è l'unica innovazione che stiamo portando avanti, siamo tra i più fattivi sostenitori della raccolta differenziata e noi facciamo la raccolta porta a porta per la differenziata e quando è fatta bene questa raccolta è a costo zero.